Le migliori menti in circolazione sul pianeta Terra non sono concentrate a farci leggere di più. Se uno legge, è inteso come avere dei momenti di approfondimento giornalieri. Poi leggere può essere cartaceo, digitale, audio, libri. Chi ha questo livello di approfondimento quotidiano ha uno spessore e una profondità professionale completamente diversa. La morte della lettura non sta seriamente danneggiando soltanto la nostra anima, ma sta seriamente danneggiando anche il nostro lavoro.